E' cominciata Estate in città, la tradizionale rassegna di incontri all'aperto organizzata dal comune di Pordenone, con il sostegno delle associazioni del territorio. Tanti gli appuntamenti serali e diurni, rivolti ai grandi e ai piccini. Sono cominciate le visite guidate della città a partire da Palazzo Badini, in cui vengono raccontati cenni storici e curiosità a partire dal 1600. Parco, la galleria d'arte moderna e contemporanea, ha ospitato il laboratorio per ragazzi, dedicato al percorso di Villa Galvani. Al convento di San Francesco è stato proiettato un lungometraggio di Matteo Corazza, regista, illustratore e fumettista di Ghirano. La produzione indipendente ha avuto come location vari luoghi della provincia di Pordenone, da Portobufolè a Fanna fino ad arrivare al capoluogo di provincia. Nell'arena verde del Castello di Torre, i celebri Papu hanno presentato lo spettacolo Il giovine Frankenstein, che si ispira al film Frankenstein Junior di Mel Brooks, con dialoghi e atmosfere del capolavoro in bianco e nero del 1974. Piazzetta Calderari gremita con il ciclo Visioni Sonore, che anche quest'anno ha ospitato titoli d'eccellenza, tra cui La mia banda suona il film, ovvero un viaggio musicale tra le grandi partiture cinematografiche per banda. Altro appuntamento di rilievo è giovedì sotto le stelle, con i negozi aperti fino alle ore 23. Un evento che attira tanta gente dalla provincia di Pordenone e non solo, e che permette, oltre che fare acquisti serali, anche di visitare i diversi musei e la biblioteca civica di Pordenone, che con l'occasione rimangono aperti per tutta la serata. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. La prima settimana è andata via liscia, anzi ha richiamato tanta tanta gente che si è divertito proprio per questa offerta così ampia e variegata, che caratterizza il menu dell'estate in città 2011. Noi siamo contenti non solo per aver visto questa partecipazione così massiccia dei cittadini di Pordenone, ma anche per aver notato la presenza di tanta gente che è venuta da fuori. È un po' il timbro di queste manifestazioni, quello che noi intendiamo offrire come città. Estate in città continua fino al 30 agosto. Per informazioni, telefonare allo 0434 39 29 17 oppure www.comune.pordenone.it slash estate. www.comune.pordenone.it